Mi consenti di dare questi fiori a Simone Inzaghi e al nostro mister? Sì, sì, perché gli eservono. Auguri, caro mister, io non so più chi fa giocare, con chi giocherai, perché qua si stanno a rompe uno dopo l'altro. Escono sempre a metà partita dopo dieci secondi perché si sono fatti male. Si sono fatti male. Prima Luisa Alberto, poi Marco Parolo e infine Bastos. Nonostante questo, rimanendo sempre sulla questione Inzaghi, parliamo un po' di Inzaghi, il mister riesce a mettere in campo una formazione che gli consente, mercoledì, di ripresentarsi a Siviglia e cercare di fare l'impresa. Un'impresa che forse sembra possibile perché comunque la Lazio ha retto abbastanza bene. Sì, abbiamo retto il Siviglia, non è stata una brutta partita, hanno fatto quello che potevano. Il gol dell'1-0 gli è arrivato con un errore in difesa clamoroso. Ero raccio di Bastos che non si allarga. C'erano dei buchi allucinanti. Questo ha permesso a Sonabri di fare un bellissimo passaggio a Yeder che fa un contromovimento pazzesco e brucia la cervi. E' una serie che poteva finire benissimo a 0-0 e nessuna delle due avrebbe rubato, insomma, abbiamo tenuto testa tutte e due. Però pure loro un bucio di culo all'inizio, al primo tempo. Diciamo col tiro di Marusic. Entrare, arriva quello, gli mortacci due, non uscivoli mai. Chiar, chiaro. Ex Roma, la storia racconta questo, deve succedere sempre qualcosa con questi dati. Chiar salva sulla linea il tiro di Marusic allo stesso tempo, però nel secondo tempo Cervi salva un altro possibile pesante 2-0. E io sinceramente a questo punto mi tengo questo 1-0. Mi tengo questo 1-0 perché la Lazio ha dato secondo me il massimo con i giocatori che c'aveva. Loro avevano gran parte di due avanti, pure loro avevano qualche assenza importante. Ma è pure vero che la Lazio mancavano Milinkovic e Immobile. Con questo però non voglio dire, eh, se ci fossero state Milinkovic e Immobile questa l'avresti vinta. Eh, gli sarebbe finita 1-0 uguale, magari 1-1. Però io invece vorrei dire soltanto questo, andare un po' a favore anche di Izzaghi. Qualora Parò non si fosse rotto, Luiz Alberto non si fosse rotto, e magari Bastos, Bastos, preferisco mai tutta la vita Luiz Felipe, forse sarebbe stata una partita leggermente diversa. Leggermente diversa perché comunque la Lazio ha dimostrato di saper far male in qualche modo, quantomeno riuscire a mantenere, a contenere questo Siviglia con le sue ripartenze. Noi abbiamo fatto un strumento, una grandissima partita di vedere lo stesso palla. Abbiamo dovuto tantissimo il pallone, non siamo stati mai pericolosissimi, accetto al primo tempo con Malosic. Però ragazzuoli... Però, insomma, da questa partita ci fa buono sperare per la partita di ritorno, insomma. Sì, purtroppo... Non ci arriviamo con le perse, è recuperabile perché è solo 1-0? Secondo me non bisogna essere pessimisti. La Lazio questa sera ha lanciato un buon segnale che anche con le seconde linee possiamo andare lì e cercare di fare un'impresa che stasera non mi sembrava impossibile, nonostante le seconde linee non mi sembrava impossibile. Spero però che settimana prossima recupereremo qualche tassello importante, perché oggi ne abbiamo persi tre. E due di questi sono secondo me fondamentali. Marco Parolo, Luisa Alberto. Luisa Alberto ancora una volta si tocca quella zona lì e io inizio a pensare che potrebbe rimanere fuori a lungo perché deve cercare di recuperare il meno tempo possibile questa infortuna che sto portati a loro pareti. Non è possibile che vai sempre a giocare e poi devi uscire perché... Senti dolore, senti dolore. Fermati, fermati, ti serve un mese, ti serve un mese e mezzo, fermati, però torna al 100%. Non puoi tornare al 70% e continuare a strascicattolo. Uno, perché non fai le tue prestazioni. E due, perché potresti peggiorare anche le relazioni. Fa strano invece aver visto Parolo cedere, perché Ragazzi Parolo è uno di quelli che anche se sta malissimo, gioca comunque e dà sempre al 100%, evidentemente però il dolore è troppo alto. Spero che non sia nulla di grave, spero che sia una preocazione o quello che è, però adesso ci aspettano due impegni importanti. La Lazio giocherà contro il Genova fuori casa, poi dovremo volare a Siviglia per cercare un'impresa. Spero che torni al 100% Ciro Immobile già contro il Genova, perché non me ne voglia Caicedo, ma in queste partite si è sentito l'assenza di un attaccante che attacca la profondità e può far male con una palla filtrante. Caicedo ha fatto la sua partita di sacrificio da 5-5,5. Io penso che la coppia Correa-Caicedo possa far male alle squadre medie e basse in Serie A, già si alzi un po' con il più tasso tecnico. Caicedo ha ancora bisogno di un po' di... De fiducia, oppure de fiducia, perché è un attaccante mediocre, non è un top class, un po' di fiducia e un po' di essere bloccato, un po' che sta in via, c'ha bisogno ancora un po' di lasciarlo da solo. Non puoi dargli una squadra in mano. Invece Immobile glielo può lasciare. Tutta l'altra caratura, Ma lo sa anche Caicedo. Invece Caicedo va aiutato, Caicedo va aiutato, e Immobile è uno che ti aiuta. Due cose completamente diverse. L'Uso Alberto in conferenza aveva detto che loro hanno due attaccanti che segnano tanto, noi ne abbiamo uno che ne segna per due. Quindi ragazzi, l'assenza di Ciro Immobile in questa partita è stata molto, molto, molto... Sentita. Sentita. E forse, ecco, se ci fosse stato Immobile a posti di Caicedo sarebbero cambiate le cose, ma a me mi piace vivere la partita. Caicedo non è stato da buttare, come tutto il resto della squadra, anche quelli che sono entrati. Forse salvo solo Durmicio, ok? Però alla fine la partita è finita 1-0. Nessuno si merita la sufficienza a bucciatura assolutamente proprio. Spero ovviamente che Inzaghi in queste due partite con il Genova e il Siviglia riesca a trovare una formazione quantomeno al 99% da condizione fisica, perché inizio a capire che gli infortuni sono anche per problemi seri che la Lazio si sta portando dietro da parecchio tempo. Giocano più o meno sempre gli stessi. Ma perché chi ci metti, se no? Cioè, chi ci mette al di fuori di quello? Non siamo a Juventus, abbiamo tre squadre. Lo so, infatti. Chi ci metti? Abbiamo tante gare, abbiamo tante partite e i giocatori sono faticati. Sono sempre quelli, perché sono sempre quelli, quelli che cambiano. Sono pochi. È normale che si rompono tutti, è normale. Ora come ora mi dispiace tantissimo aver ceduto Murge a casa adesso, tipo, fatto sta che adesso non si può più pensare a queste cose. Fiducia a Cataldi, fiducia a Romulo, fiducia forse anche a Patrick, anche se Patrick non vede più il campo, e penso che con Romulo non vede più. Patrick è uno dei calciatori che mi piace tanto. Che dà l'anima. Non è bravo, regà non è bravo, non è Cristiano Ronaldo, ok? Non è bravo. Però dà l'anima, dà l'anima. Quando entra, corre dietro ogni pallone e va a aiutare, sta attaccato alle persone, ci mette il cuore. Servirà tanto, ci mette il cuore. Servirà tanto anche Bader, assolutamente. Serviranno tutte queste seconde linee che servono a far rifiutare e cercare di farci un po' sognare, perché se la ragazza vuole arrivare a quanto posto, allo stesso tempo, tra lasciando Europa League, deve cercare di fare risultato anche a Genova, che come al solito ragazzi, Genova-Lazio è uno dei peggiori partiti della Lazio, ma da anni questo, ma da anni che Genova-Lazio è sempre una partita particolare. Noi vi diamo l'appuntamento proprio per quella partita, Lazio-Lotti e Nonna, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali, qualora non l'abbiamo già fatto, da Pianni e The Queen, All World, e da Miro è tutto, sempre forza Lazio carica.